no così quasi guarda dov'è giusto giusto è qua sotto mannaggia non lo vedo ho solo ombraghiatti però aspetta ora te ne lascio mannaggia a lui guarda dov'è mi è passato davanti e lì no ma era qua si no ma ci avevano messo cosa davanti ecco perchè è possibile due no vabbè non vuoi essere che siamo squadre oh oddio santo c'ho gente da me ma che vogliono ma non è che abbiamo messo squadre per sbaglio ma hai capito ma c'è troppa gente uno a terra ma che cazzo ne ho fatti due oh cambia mea madonna mi ha distrutto eh vabbè però ne ho distrutto sono morto ma forse abbiamo stato fatto squadre comunque non lo so perchè c'è qualcosa di strato troppo accente ma che quello ha rebuttato due io non l'ho capito un attimo un attimo un attimo si a voi hanno messo qua l'aggiornamento di dragon ball è troppo divertente è bellissima poi la camera è fortissima no era coppia non lo so c'è stato qualcosa di strano non ho capito la situazione va bene ma ho messo pronto di nuovo vediamo se c'è vediamo uno stile un attimo ah ci sono diversi qua con i glow che non li ho mai usati però non mi piace vediamo questo no aspetta non pronto come faccio a invitare ma non ho l'acqua ok posso invitata ai 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 allora ho invitato Cristina aspettiamo che entra ah ha detto inizialo ok ok iniziamo questo dice si aggiunge dopo coppie e andiamo così si 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 ovvio Aldo si possono fare le battle zero costruzioni però le hanno messo una nuova modalità sono molto divertenti devo dire allora questo sia uno spiderman troppe schien vediamo un pochino ma io voglio usare sempre spiderman dai vediamo la prossima cosa usa dottor strange eh io non ce l'ho era sempre no era nel post si era nel post un po' di post dalla scorsa season si era livello 100 dello scorso post vabbè perché c'era stato spiderman no way home noi giocavamo tipo i miei amici costruivano e io killavo lo so non lo so no fra fino a ieri ho fatto una partita con le costruzioni mannaggia sono arrivato terzo per un un po' di sfortuna non costruivo da tanto e devo dire pensavo di ricordarmelo meno però ho attaccato il pad ho capito quello è il problema infatti sapevo costruire ma non sapevo sparare e quindi eh ho deciso che forse mi metterò di impegno e imparerò dalla tastiera vediamo 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 solo che proprio mi devo mettere di impegno non lo so se voglio farlo realmente guarda spiderman che fa il loser a goku ahahah bellissimo ahahah allora dove andiamo dove andiamo ci facciamo un ahhh vai ci aiuto ci facciamo un bobine brulle e sarebbe a roggy reels ok andiamo a roggy reels via così let's go oh c'era bugato finita costa e un giocatore in più vai va bene aldo va bene ti aspetto ti aspetto io solo sparo vai 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 zero build è bello fra è bello perché non si costruisce è bello è divertente però anche la modalità con le costruzioni è il suo perché eh poi spiderman non la nuvoletta speedy non lo so però è bellissima no è troppo bello come paracadute come deltaplano quella nuvoletta speedy la dovevo prendere per forza il servizio momentaneamente non disponibile ok ma le hai viste invece le puntate che hanno messo di su per qui hanno messo degli episodi di super si c'è una mappa tipo creativa dove si possono vedere tipo 4 puntate di super ah no no non ho visto quali hanno messo no io neanche le ho viste però so che le hanno aggiunte al momento sono in barico gli spoiler del manga tipo no io veramente non so se posso farle vedere in live quindi non ci sono andato cioè penso che mi denuncia ci d'altro no ma non lo so perché forse se sono messe dentro il gioco non penso non lo so in teoria dovrebbe fare parte dei contenuti del gioco eh in teoria si è vero cioè non dovrebbe essere un problema posso provare però non lo so vediamo ma devo vedere un po' è vicino a me però non sono indrippato con genshin ci sta fra non tanto allora mi cioè l'ho visto quel gioco ma non mi ha mai detto niente di che ecco è carino però sempre devi pullare eh si esatto esatto è troppo un po' da gioco c'è gente da me ah erano quelli che erano vicino a me fatto c'è l'altro sopra il tetto c'è l'altro sì ah te lo fai one shot bello muori let's go bella filippo grazie mille del like e benvenuto in chat caro questa sfida non ha molto senso fare mille danni che sfida è fare mille danni in una partita vabbè ma tu le fatte quella e questa è una di quelle mille danni in una partita praticamente le ammazzare dieci persone per forza c'è una mitraglietta blu ci sono delle slurp ciao giuseppe come stai tutto a posto caro buongiorno e benvenuto ieri ho shoppato virus fatto troppo bene è vero virus è il migliore fra tutti confermo sicuramente è quello fatto meglio fra tutti i personaggi si decisamente si proprio è fatto bene il problema è che le orecchie le vedono da un chilometro si vabbè pensa ai capelli di gogo allora da dove ah penso da dove li vedono i capelli di gogo anche questo mentre ci sono acqua c'è il distributore di kamehameha ragazzi danni prendiamoci la nuvoletta e kamehameha la prendiamo eccola c'è anche la sfida nel frattempo io l'ho presa nuvoletta e kamehameha andiamo bellissimo ah mi devo rimettere la maschera di spiderman così mi scoprono non ho letto no che mi dovrei toglierlo ma c'è anche un bidoncino di bibitozzi qua lo devo sparare e sono anziano aspetta così let's go il problema è che le orecchie si infatti ve l'avevo letto ho letto già bella angelo e giacopo jacopo scusami come giacopo grazie mille dei like ragazzi e benvenuti allora mi servirebbe un dmr migliore perché ne uno bianco ma sapirebbe proprio un dmr troveremo qualcosa ci sono spari dritto davanti a noi più o meno era ammazzato un vegeta perché uscivano le punte dei capelli blu da un gespuglio ecco appunto ma comunque c'è una sorta di nebbiolina strana si c'è tipo una nebbia quando c'è l'avento di halloween però senza motivo c'è l'avento di halloween non lo posso capire ma abbastanza è fatta male quella nebbia sembra quella tipo di giochi della ps1 una nebbia di quella boh esagerata di ps1 proprio che che mi sparo aia da dove ah sì sì visti 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 mi nascondo un attimino ma io ti copro 45 ma questi hanno il cecchino vieni vieni se riesci cerca di avanzare si vabbè va ma no madonna mi ha lisciato che la faccio io 0 di scudo uno distrutto uno lo di scuola almeno un poco la vita ok ecco un attimo dall'altra parte mi si deve ricaricare la nuvola speed e le disintegro eccolo ci sono sono tutti i due qua li vedo sono scesi non è mannaggia che non andrò mai armi a distanza una terra buono ce l'hai vicino l'altro sì 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 lo so dov'è fa mi fatto se è stato malissimo rompi palle ok mi rimetto a terra così non ho la cina la guardata madonna mia mamma mia no è quello è il trucco nuvoletta e kamehameha giocarsi quelle nel momento giusto e li distrutto guarda che bella quella revolver la vorrei a un utilizzo la lascio io ne ho ancora una con due allora quello in cecchino un attimo qui mi posso una cosa è scarica mi prendo la nuvoletta stanno la grande sniper lo porto perché se colpi di cecchino in più o c'è gente c'è gente guarda qua davanti qua davanti è passato l'ho visto vabbè se n'è andato era con qualche mezzo si col che avevo il cavallo mi serve un'arma a distanza io ho preso il revolver a distanza mi servirebbe il dmr non sarebbe male un bel dmr dalla michael buongiorno ciao angelo come state ragazzi tu sta a posto no no penso solo le bocche io sto andando verso 6 a gente qua aspetta c'è gente qua è distrutto una terra ma c'è l'ultimo quadrante come questo ha preso danno dio mi fai male ma una gente ferma dicono più scudi mi sta pushando oddio è senza scudo ok a casa occhio sto lupo che che mi ha sparato forse il lupo può essere colpito lui non lo so non l'ho capito bene non sono arrivato a prendere il coso c'era un bibitone lo prendo lo vado a prendere un attimo esco la nuvola se riesci ci sono anche pure lascio questo qua arrivo vabbè lo tengo io mi arriva qualcuno prendo il bibitone prendo solo quello perché uno slot libero così madonna non rompere lupo levati dalle palle servirebbero pure veloci ti riservi niente live come mai eh fra perché al solito live serale il lunedì il mercoledì il venerdì fra come sempre la revolver dov'è ce l'ho io ce l'ho io la stavo tenendo per non se l'era mangiato il lupo questo è con noi ecco qua ok grazie sai come a rivolto è arrivato qualcuno eh hai fatto bene andiamo va allora dobbiamo trovare qualche non sarebbe male qualche persona da uscire qualche medikit anche o qualche spray allora michael grazie dei like della condivisione mirko e mattia grazie mille anche a voi dei like ragazzi comunque il revolver è fortissimo quel dart oh c'è gente d'anti a me qua qua ok senza scudo fatto fatto bello bello c'è l'altro qui vicino in zona deve essere eccolo qui ci sono scudi e medikit qua andando prendo due medikit si si c'è il suo amico che si sta pozzando sotto comunque arrivo subito sto scivolando lo distruggo con una kamehameha oh mi sparano da lontano mi hanno fatto da pinnacoli mi hanno fatto da pinnacoli non ci credo no eh lo vedo ma occhio occhio ce l'hai sotto dania ce l'ho da tutti i lati c'è che no attento il backup non c'è che non mi ha presso vedi se mi riesce a prendere i spall mi porto un po' ammazzato in dondo bravissimo 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 allora qua mi puoi curare tranquillamente mi hanno ucciso da dentro pinnacoli mi hanno snagherato eh li ho visti erano sul tetto mannaggia loro mannaggia ora gli tiro una kamehameha con la nuvola speed e le distruggo allora no caspita lo volevo lanciare no 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 stanno arrivando ci hanno busciato che non mi fa lanciare i medikit dai che sfiga mentre mi stavo alzando tipo con la nuvola speed quello mi ha sparato che ero one shot ma che cazzo di sfortuna mannaggia loro io lo rischio è che non mi prendi i comandi e non mi fa lanciare i medikit peccato vabbè dai gg bella Emanuele Dimitros grazie mille dei like ragazzi e benvenuti in chat andiamo alla prossima che bisogna fare che si deve fare allora load mettiamo tutto il stretch allora aspetta che vado alla lobby anch'io bella Lollo grazie mille dei like caro benvenuti in chat tutto a posto? allora signor questa sera raga però siamo in live siamo in live questa sera credo sempre su fortnite non lo so non saprei dirvi oh c'è anche Cristiano lo invito aspetta invito eccolo invito anche Cristina di nuovo vediamo se c'è ok bella Ivan buongiorno caro benvenuto in chat grazie del like come stai tutto a posto? allora facciamo sedere un po' spider-man qua e voilà non so se cambiare skin vediamo un po' vediamo se riesco se trovo qualcosa che mi piaccia sai che ne ho un milione però quello è il problema ciao buongiorno buongiorno allora fammi vedere c'è anche Cristiano l'ho invitato vediamo se entra una volta usavo troppo rubino la usavo tantissimo quasi quasi la metto rubino però rossa come ai vecchi tempi è lo zainetto balenziaga ora gli metto sì 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 assolutamente dov'è Cristiano ha una skin che gli somiglia ma l'ho presa solo perché ho chiesto i reso bellissimo ah sì quella che c'è oggi sei tu fra ma gli somiglia tantissimo è lui è vero è lui però devo fare delle missioni per sbloccare sì gli altri stili l'ho visto esatto allora vai così andiamo let's go è che però non mi piace tanto voglio cambiare no niente rubino mi piaceva di più una volta artigliere bruto mi gioco questa partita mi pare che si chiamava così sto skin ti conviene sbrigarti sì artigliere bruto bellissimo e poi mettiamo la pala visione come piccone perfetto sì sì artigliere bruto top skin andiamo let's go oggi dai ci sono arrivati con andrea ci sono arrivati trickstar pure stiamo montando sprite trickstar che è bellissimo con i light stage sprite trickstar è che fa barna pure no no è che si gioca la si giocano i light stage e la trickstar livello 2 che si speciala quando viene aggiunta alla mano ah con una partenza in più come se non bastassero troppo forte oggi mi devono arrivare le carte quelle la serie di pokemon ah ok ho capito variare i youtube ah a proposito c'era carmelo che mi diceva che lui ha un sacco di carte insomma che vende di pokemon anche gradate di vari prezzi tipo dai 30 euro fino a per direi anche mille per dirti ci posso fare un pensiero che ora devo prendere raccoglitore che mi sono arrivato un sacco di parte collezione andiamo che ne so andiamo vai vai ci sta no no lei no Michael lei no lei no non non stream ma non stream ma per ora non ha il computer le piacerebbe stai grazie della condivisione buongiorno comunque ti stavo dicendo ah si che ti ho chiesto insomma gli ho detto di mandarmi delle foto così poi te le mando però cose di poco per ora che si no ma infatti ho detto sicuramente non penso che comprerà roba da 200 300 400 euro però lui mi ha detto dice io ho tante fasce di prezzi cose anche come carte gradate da pochi soldi ma io ho preso carte ora mi devo fare gradare mandale a coso e no non gliele mando cioè me le ce la porto a mano se mi prendono a lavorare perché la sede è a milano ancora meglio ancora meglio ancora meglio vedo che non hanno scordato i lanciatori ah un dmr finalmente ma sono ottimi per dare inizio alla festa perché non andate ad azionarli mentre io controllo i miei corti un maestro chi è che spara chi è che spara c'è gente si va sull'albero si vabbè ciao morto cos'è eh la mitraglietta a carica o c'è c'è altra gente mi sa ah era lui che era ancora a terra ok andando via dai la prendo la mitraglietta a carica comunque la mitraglietta a carica in realtà c'è un modo per usarla che è forte sparare a raffichi da tre colpi che la carica a tre poi spari a colpetti così è forte ok è tipo quando hanno messo il pombo a carica per me era troppo bello eccolo Giovanni come stai le ferie sono finite in realtà io ancora non me le sono prese Giovanni come stai caro benvenuto in live e grazie del like caro tutto bene un grande Giovanni da domani sono le ferie ecco è un grande Giovanni ragazzi perché lui considerate che un'altra era un hater che veniva in live andatevene a lavorare veniva sempre però io poi ci ho fatto amicizie con lui ormai c'è un rapporto con Giovanni ai 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 oh bella 50 ole andiamo ok ci sono perfetto la prossima settimana invece adesso c'è un torneo tipo sneak di pokemon si c'è un giratina nella prossima espansione vale 400 euro bello te lo fai questo torneo si certo ho capito capita il giorno del mio compleanno ah in 26 ho capito sì perché questa settimana è chiuso vado io torneo la Rebecca angelo grazie dei like ragazzi che sono i bidoni se vi sa non siete più qua arriva arriva stanno sparando davanti tutto dritto davanti a noi direzione della safe zone vedo ok questa terra ma c'è gente da dietro la mia ce n'era una ah ok poi ancora mi stanno sparando non vedo altri spari anche dall'audio 3d non capisco nemmeno io c'è da dietro e anche davanti 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 infatti li sto cercando di capire dove sono eccoli visti 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 sì qua arriva allora 180 madonna mia che botte che hai preso 48 non è che l'ho fatto a lui il 180 però all'altra skin sono entrati entrambi in questo palazzo arriva lì c'è uno alla finestra preso 348 ho tolto lo scudo sono la delle stanno bozzando no io e chi stiamo siamo che tipo da un'altra parte total man stiamo facendo un viaggio per arrivare da voi mi spara mi spara mi spara ho preso ok bravissimo preso sotto lo scudo muore se ne è andato se ne è andato io li tengo così un attimo si stanno portando qua in questo palazzo king rosso e non li vedo più saranno sono andati secondo fatti due c'è un altro c'è un altro sono tre oddio sono morto io ho fatto bei danni ragazzi ho fatto bei danni arrivo sono dentro non capivo com'era possibile ciao luiz buongiorno mare come sento a posto benvenuto in chat bello mio o le questi hanno preso le botte hanno preso domenica torno a roma dalla vacanza prima cosa mi abbono gioco di grande di aspetto l'aspetto fratello allora questo spray non sarebbe niente male anzi mi mandi il medici per lo sprema lo tengo avete pozzette pozzone pozzino una scenario aspetta aspetta questo grazie un attimo ma io sono anche senza scudo mi senta che ce l'ho il barretto lo riportiamo avete qualche colpo cerchino ragazzi ne ho sei tieni di rilascio grazie venite un attimo qua bella agostino grazie dell'aica benvenuto gerardo grazie mille del tonno e benvenuto nella family allora fatemeverei fatemeverei e prendo questa r che me lo porto va bene sto scendo da sotto allora intanto andrei in safe ci abbiamo la tempesta di una posizione possibilmente rientra qualcun altro da pinnacoli da qualcuno possibilmente arriva sì sì andiamo verso questo cogliene ma ci sono delle bozzette se ne potete portare poi se portare io topperoni comunque oggi c'è un caldo clamoroso o gente ma troppo che altri qua come non mi stato con questo colpo di sniper non capisco io l'ho visto del rato spot c'è ma capito non mi ha fatto danno quel colpo di sniper ma era in faccia proprio non lo so boh che è la nuvola e l'onda prendo la nuvola dai mi prendo l'energia ho gente di qua adesso il dio posse ecco li sono proprio in open hanno appena finito di fai dare questi c'è l'altro c'è l'altro c'è il bot anche altre one pure fatto no 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 non lo sarei fra fermo subito bot allora io per scendere da qua sopra devo usare per forza la nuvola a spi vabbè si è appoggiato un corvo accanto bello sarà in pieno ci sono apposta sparano 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 ma non vedo da dove qua qua sotto a dietro 180 io ho fatto da 4 o 1 che hai fatto fatto ma come che non ci arrivo mai ora me ne vado da sola sono sopra questo albero guarda dove sono sono tipo un'antenna io comincerei a fare strada però si si decisamente si io un attimo prendo il lutto di sto tizio che appena ucciso vabbè ma tanto la nuvola posso adesso indietro io ero indietro non so doveva di interessante questo un dmr verde ah c'è un bidoncino di slurp non sarebbe malaccio vabbè siamo tutti full a parte te allora me lo mando io mori dopo di me allora ah ma ritengo con gli animali ritengo ok ho fatto sta sfida let's go bello Antonio grazie mille del like caro benvenuto in chat allora c'è troppo silenzio è vero c'è troppa calma fanno tutti gambera d'inserio oh ha trovato una nuvoletta bella oh mario grazie del like fra buongiorno e benvenuto c'è una capsula qui la capsula corte ma si arriva a prenderlo aspetta vedo se c'è gente in giro no vai 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 prenderla estrae prendi pure prendi pure praise ma che mi tolgo mo no la come a me non la prendo non la prendi? se non la prendi la prendo io volentieri si si te la lascio vabbè prendi tu prendi tu prendi tu si si te la lascio che sono più lontano tanto ho la nuvola per il bambino che non saprei che arma togliermi ma io ogni volta non mi porto cuore quando kamehameha è nuvola io le pozioni piccole però me le tengo sono importanti io vorrei fare le sfide quindi devo riuscirci non c'è gente comunque qui si sparano vicinissimo si risalgo sono qua vicino tra l'altro eccoli è qua si oh che scam incredibile ho fatto un pio ho fatto proprio 180 gli ho fatto in testa città ce l'ho rubata non mi lasciate ho gente qua davanti qua davanti eh ecco scudato ferro gg dove sono questi altri? eh ma c'è ancora gente perchè non è scoppiato c'è ancora qua c'è un ginghialozzo stiamo attenti a quelle alture davanti là c'è un'altra onda energetica mi sa dove? davanti dai qua è un'onda energetica? no è un'onda energetica no è un'onda energetica sento te lo cuore mi sembra un'onda energetica secondo me dalla luce anche a me sembrava ma non lo è un timer tipo una cosa del genere non lo so è una questa comunque qualche emissione sarà vediamo un pochito un pochiti dietro ma è un timer per cosa? boh una quest sarà non so che è questa dove è la gente? io sono qua in safe e non vedo nessuno sono 20 persone e non si vede nessuno eh appunto tutte gamberatissime saranno boh sicuro ti hai camberato nel canyon eh sento a sparare sparano verso dietro si uno qualcuno è morto un altro morto una nuvoletta speedy da me arriva eccolo sì sì ho visto arrivo da te doppio 33 lo ho fatto male bravo vai sono qua stai sparando a me scudato? one shot? ho messo one shot quello che ti sparava è sceso è sceso sì sì sono due mi sa perché uno è con un maiale e uno è con un lupo infatti sono due sono due danni un'altra la skin che ho distrutto era un'altra e questo sta per morire però fatto eh qua sotto guarda un altro ancora one shot ce n'è un altro questa è la prima skin che ho messo one shot perfetto ce n'è un altro ancora mi sa questo lo finiamo andando bevito oh c'è una nuvola lì questa c'era dorato allora ma quando si spalle ah guarda questo qua sotto oh è dietro l'alter andò d'ordo a terra madonna che shot anche qua c'è una corona lì a terra se vi serve ragazzi aspetta che attira nemici ma c'è gente non sperando tutti i lati mi sa giorno 30 gente era dietro ma fino al 27 poi sono loro che mi hanno fatto un altro che quelli se ne sono una macchina piccola che è questo quello lì che scappa col cinghiale e gli stanno sparando arrivo è questo è quello col cinghiale e saranno cambiati qua dentro sono tutti qui e aspetta c'è uno qua fuori questo con lo scudo di capitano america senza scuro ha pushato uno uno fatto c'è l'ultimo ragazzi facciamo la picconata c'è l'ho qua da me facciamo la picconata tutti insieme ragazzi col piccone in mano vai andiamo 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 vai così appicconate si fa appicconate si fa non possiamo aspettare quello ci ammazza nel frattempo alle armi e noi il piccone andiamo così si vincono let's go non ci gioco più con voi flex no non devi avviare ai ai bellissimo bellissimo quando si resta 4v1 è picconata per forza ragazzi non si scappa non se scappa l'ultimo è l'ultimo occhio che bobini 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 ci voleva questa bella guida e stavolta appena rimane l'ultimo dimmelo prima che venga presto te magari riesco a non ho detto appena siamo rimasti 4v1 ho detto 4v1 piccoliamolo si stavo parlando con mio padre stavo correndo non è colpa mia aspettatemi bella luca che ero le vitto buongiorno grazie dei like ciao vitto buongiorno fra todo bn siamo reduci da una bella vittoria appena fatta con chi il finale a picconate chirurgo buongiorno ciao giuseppe tutto a posto ai 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 la finale a picconate è bellissima ragazzi fantastico donatella grazie dei like e benvenuta in chat ai 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 devo fare una una cosa devo mettere una una partita devo fare con la skin del leader della squadra delle coccole e ormai penso già sia partito sì sì io dico qualche partita la voglio fare con quello ma troppo queste moto vero mi piace troppo questo balletto fa scassare oppure questo era bello vero no alia grazie del like fabio grazie anche a te andrea e filippo grazie anche a voi ragazzi e benvenuti ma oggi che si mangia boh michael non ho idea non lo so non lo so allora dove andiamo quello che c'è quello che passa il convento esatto non so cosa troverò ci vuole la canzone ball ball è vero questo giuseppe ragione fra ammetteremo più come sono l'ultimo vero oro che questa luna va bene sì sì è luna è stato un voto vabbè donatella botto no eravamo 4 contro 1 c'era poco da fare per lui con i picconi in quel caso 4 contro 1 non puoi fare più niente è finita allora dove andiamo comunque è troppo bello questo deltaplano di indiana jones con questo è il gommone il gommone il gommone di salvataggio molto bello molto bello allora oh c'è gente qua oh mamma mia mi sono salvata senza alcun motivo che è butto c'è un altro capito ma sento troppo rumore un po un altro ancora ragazzi non avevo solo la mia stessa spina e dai ma quanta vita porca giuda tre ore io ho sparato ma che sono ammazzato un altro un altro aspetta 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 mi ha tutti degli studi dai però no vabbè ma che c'è qua ma che c'è quel panico se mi riesce a prendere spalla e portarmi via da riesce e ce ne scappiamo prima a prendere le schede via ma che sta succedendo da dove da sopra 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 è salito sopra non l'ho fatto grande steven ma rimostrazione da solo daniele il dottor strano precisione chirurgica il dottor strange è uscito dal nulla allora aspetta un attimo mi devo un secondo riprendere e sono qui chi è che sparato aspetta che un altro va bene distrutto per scoppiare arrivo arrivo scoppiare vabbè ti prendo la scheda uguale tanto è meglio torni ora 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 buttiamo tutti andando abbiamo tolto un buon attimo di munizio e c'è un altro eh l'ho visto da me si si scappa scappa ti conviene furgone dove ti sei imbutto l'ho usato ah l'ho usato è sceso è sceso è sceso giù va bene ce l'abbiamo tutta la scheda? si ok aspetta un attimo mi metto una pozza al fuolo ti puo per un attimo anche se sono senza scusi senza niente ok così dove senza motivo bellissimo eh va bene ok eccole lì davanti mi sa ho sembrato di vederlo passare forse se sta cercando di buttare lui ma ma non credo abbia preso la schiera però non lo so se non fare fare forse amare quindi può essere allora ho un po' di stare attenti io non legato però proviamo vediamo che succede facciamo insieme facciamo uscire verde il falosi ora lo vado accendere il falovra ma tanto penso di trovarlo un medico qualcosa qui ci sono cazzo e non lutto comunque amare ha un colpo che federica mi ha mandato lo screen i giorni ufficiali della milano games week erano quando sono almeno sei mesi fa sono usciti ora quando sono quando sono così ora mi sono arrivati nessuno lo sapeva novembre allora direi che giorni da una vita il 25 26 il 27 ok buono dovrebbero essere venerdì sabato e domenico sì penso di sì questo è morto di voi qua sopra sul tetto io ho fatto un macello di don arriviamo arriviamo io ho capito come non sia morto ecco il pombo in mano penso che abbia solo quello come armi è sopra ancora si è sul tetto ma poi se non so se sei andato ma era qui infatti è rimasto vicino perché ha solo il pombo forse una r però ok infatti era senza vita aveva bello r viola questo infame vabbè sei andato apposto ti aspetto qui a piano bro a voglia Emanuele games week ragazzi ci facciamo un bell'incontro tutti insieme per il games week ragà non potete mancare non potete mancare allora pure no fra il games week ti ospito a casa mia se mi prendono la eh vai allora aspetta che mi do una mano let's go ok perfetto allora vediamo se riesco a riprendermi le mie cose forse ti ha rubato qualcosa quel tizio perché comunque lui è morto lì dietro il lutto lo trovi lì voleva vede cura di qualche tipo il mio fucile mangia di queste cose ma ecco facciamo uscire perfetto ci siamo spazzo muro e andiamo bella michael grazie mille del like a me non sono passato dal mio albero lo vado a controllare un attimo come c'è il tuo albero l'alberello non lo vado con i frutti i semi non l'ho mai fatto non so e ti dà cose leggendarie si poi aumento scusa Chris non volevo arriva fino al midi qua si bello molto bello oh c'è un uccello leggendario è un uccello leggendario era un no era uno zappos in realtà sono yata gara su siglet questi che sono che bello sono oppure il corvo vabbè un centro il corvo dd oh c'è una capsula che bellina che è possono dare differente dimensioni andiamo a prendere il setup da Goku andiamo andiamo comunque io sto facendo troppe sfide di Goku senza motivo senza fare niente in che senso si perché si fanno così giocando non ho capito c'è qualsiasi cosa non so se ti riferivi a me o a qualcun altro non ho seguito i messaggi perdono bella pasquale grazie mille del like caro ma quindi non c'è nessuno in questa partita ma stiamo meglio c'è un uragano qua che hanno rilasso gli uragani non vi erano un game ottima idea è bella non ci sono mai è bellissima la games week è pazzesca beh voglio farmi tutti i tornei di Goku spero che ci sono bambini che gli scambolano ma ma di più no non lo direi mai ma non ne fanno non ne fanno tornei di Goku no li fanno pure a volte l'anno scorso non ce n'erano se c'è se c'è la lega li fanno l'anno scorso non ce n'erano ma anche un trick non penso li facciano se li fanno li fanno allora forse lo fanno unito perché fanno un evento che si fanno una specie di polinazionale ma non lo so allora quest'anno che io sappio non dovrebbero essere insieme come l'anno scorso la fiera dei fumetti eccetera non lo so uh meglio però quando le hanno fatte insieme è stato molto bello sì vabbè allora è stata bella però tipo tutti dicevano che non era come al solito perché di solito è molto più grande la fiera oddio santo Marco Cavallo porca puttana allora allora Marco Cavallo ora dimmi tu una cosa ma puoi andare sotto le live di tutti i ragazzi di Grau di tutti i ragazzi che vanno in live di tutti quanti a scrivere ti metti in piedi fai vedere i piedi ti puoi alzare ma che cazzo di sembra il posto adatto non è una non è una chat pornografica o così del genere se sei malato hai un problema tipo una malattia seria che non lo so che hai qualche problema e hai bisogno di vedere i piedi di persone o gente in piedi porca puttana esistono tanti siti porno vacci Marco ho li fa spogati divertiti lì credimi che questo non è il posto giusto dove farlo però se ti abboni ti faccio vedere i piedi ecco facciamo questa cosa ragazzi almeno 100 euro per una cosa di questa cioè mi stanno sparando non capisco da dove io dall'altro lato della mappa sto cercando ancora di capire ma perché non si sa perché c'è no 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 grazie tutto ok rifiuto l'offerta di questi spari nel senso non ci sono massacrato ma ci sono tantissime persone arrivo con la camera carichissima ragazzi c'è un macello ci sono operativo uno ci sono troppe persone dove sono questi c'è un macello sì tu sei il primo a morire sì tu sei proprio il primo fratello esatto va bene uno fatto rip per la mia vista no vedgeta vedgeta infame per te sono le lame vedgeta ma sei a tre di vita comunque se schiene si vedono troppo cioè no no mi fanno se faccio ecchie cazzo ho provato quelle di naruto erano fatte ciao ragazzi ciao buon pranzo ciao buon pranzo mi faccio l'ultima messa che ancora vediamo che le sono vabbè un quarto ci arrivo ah ok donatella non avevo capito ciao buon pranzo alla prossima donatella allora ci arrivo bello preciso cosa fare un'altra sì sì ancora sono un quarto l'uno e mezzo donatella ok allora aspetta che cambia un attimo skin al volo io farei anche uno skin diversa metterò questo questa è una top skin questa qua bellissima usiamo questa qua della crew del mese scorso questo allora forse ma non ce l'ho intanto ho messo pronto vediamo un pochino però quella di quello di questo messo non l'ho usata ancora effettivamente sono usciti come i funghi in tre anni sono diventati quasi tutti le cave ma capito che ero ma ti rendi conto ma poi questo qui sto tizio sto marco cavallo praticamente va in tutte le live ce ne abbiamo parlato in questi giorni con tutti i ragazzi altri streamer va in tutte le live a dire ti alzi ti metti in piedi mi fai vedere i piedi naboman ha provato anche a farsi fare l'abbonamento ma non c'è riuscito mi ha detto se ti abboni ma se se ne va su twitch ci sono quelli che lo fanno apposta scusa gente pazza comunque qua sono quelli che scoprono le live all'improvviso così è impazzissimo vabbè questi sono persone che non hanno niente da fare nell'avvio ma poi esistono tante cioè esistono anche le live porno se proprio io non ce ne sono di questi problemi aiai cose dei pazzi ma ora uso sta skin che non ho mai utilizzato vediamo com'è eh ma due minuti c'è ah ok vabbè allora facciamo questo intanto eh sì sì ok ho messo questa che penso che fosse di una crew anche questa però non l'ho mai utilizzata non lo so forse sì di qualcuna che ho skippato sì sì credo di sì perché questa qui tipo io ho preso la crew poi come cioè la crew funziona che te la fa per due mesi tipo ti dà anche quella del mese io poi l'avevo presa poi mi sono ritrovato oltre a forse questa l'avevo presa per sta skin e poi il mese dopo mi sono ritrovato il coso sai il leader della squadra delle coccole l'orso quello l'ho preso ecco quello lì quello l'ho preso io invece ho preso questa mese scorso sì e poi vi ruolo di agosto e sono trovato wolverine 0 cioè wolverine lo vorrei per collezione però non lo vedo questa mi piaceva troppo perché era di botte ma culo adesso la pesa anche Cristina è bella poi ha il septum tipo è troppo bello questo sì 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 io mi faccio la collezione di skin femminili perché uso uno skin manda per cento quello pronto prova bella raga ciao fra ciao allora dove andiamo facciamo procedere allora dove possiamo andare perché no procedere va si è fatto bene stai fatto bene guarda mannaccia alla miseria ma questo è pazzo fra è pazzo credo questo è pazzo mamma mia che caldo andiamo dei crocevia comunque non è malaccio sta skin però penso che la userò 50 gradi oggi oggi c'è un caldo devastante ah c'è Darth Vader che è atterrato lì dove ah possiamo andare prendere la spada ci sono ovviamente anche i trooper voglio la spada io quindi looterei sì sì andiamo andrei a fai dallo non l'hai provata non l'ho mai provata non l'ho mai provata la spada di Darth Vader è fortissima cioè mi sono fatto anche una vittoria reale con la spada sì donna questo che botte che sta prendendo sì che si dovrebbe andare uno che non sapeva giocare però l'ho proprio distrutto ci sta hai fatto benissimo era dietro di te questo salito? sì è sopra lo santo è anche fatto la fine del top allora 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 sapete che io nel frattempo mi sistemo l'inventario se lo butti sto così o la scelta la gente andiamo lì a recuperare c'è diversa gente allora qua dietro c'è sempre il coso di deploy verso di là o lì c'è uno a terra che striscia eccolo qua davanti a noi la bice che striscia ok ciao eh questo qua davanti no ma che cavolo era uno che stava arrestando mi sembrava un bot ve lo giuro ragazzi a terra a terra no c'è un altro che mi insegue ieri ho fatto zacco di danni ancora non muore ok questo è morto dovremmo esserci andiamo a recuperare la spada la matematica non mi inganno oddio sandro mi sono rimasto ma so 4 di vita io cioè wow no te sono resto 1 wow se ti devi impegnare a farci sono le penne come un rivito aspetta che le bende sono geni si 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 ma un medikit meglio ancora ah c'è la scelta c'è il distributore di kamehameha in nuvoletta è top di gamma ah ho trovato un bel bibitone no però ho preso solo l'onda oh il bibitone è bellissimo no 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 spregata vaffanculo che è successo volevo usare il medikit mannaggia se volete prenderla fate pure a parte il suo bibitone è durato tipo 3 secondi è perché mi sa che si è rotto con la kamehameha sai no pazzesco mi so di si aspetta non va niente va bene dai andiamo non so se è pistoletta normale andiamo se c'è ancora d'altro vado penso di si ah vero andiamo a vedere se c'è ancora dove essere la ping viola dove c'è il ping viola si dovrebbe esserci perchè non penso che qualcuno l'ho più ucciso alex daniele grazie dei like ragazzi venire con la macchina salt c'era la macchina fotografica una volta la navicella l'x wing è là è là lo vedo lo investo lo investo lo investo si si investi lo ti prego certo mi abbi no la forza attenzione ma c'era un trooper oh mio dio non lo fare avvicinare a vero che avvicina lui con la forza però vaffanculo lo allontano io ce l'hai dietro lo allontano ancora no non l'ho preso questo è capitazionale ti tiro una kamehameha basta ho deciso si si tira gliela tira gliela oddio me l'ha fatta sprecare la kamehameha l'ha fatta sprecare vediamo come l'ho fatto la provo un attimo voglio provarla vediamo attenzione ai trooper ma la lancia no si 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 può anche lanciare ma che dè ma è fortissima proprio come su su star wars no way ragazzi è troppo forte l'ho detto è forte no guarda qua oh c'è uno in volo qua è un corvo no non l'ho preso allora ma vede medikit ragazzi no mi sono anche morto praticamente sono senza vita però sono tranquillo ah tieni ho tre tre balli mi dice mio figlio tuo figlio la chiama la tempesta di dragon ball voglio la kamehameha Ken anche hai 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 ho un cinghialozzo Ok, siamo arrivati senza munizioni, ma non posso. E' un pazzo local. Voglio fare l'ultimo aggillo con la spada adesso. Sì, la King of the Wind si deve fare così. Eh sì. Allora. Siamo in 37. Può anche parare i proiettivi, sì sì, questo lo so. Sì, questo lo so. Dove possiamo provare ad andare? Sto andando verso il pino blu. E dove eravamo prima? Sì sì, vediamo se riesco a trovare qualche medica o qualcosa. Ok, dopo di che proveremo ad andare verso il tiro. Sì sì. Va bene. Sì, dire. Può anche dei rift. Ah, ottimo. Allora, semmai non siamo in un nord. Qua c'era il rambino che ho lasciato prima, ma non lo voglio. Non c'ho abbastanza oro per shoppare la nuvoletta, mannaggia. Il prossimo sette dischi nei Dragon Ball lo voglio Gohan e Trunks. Eh, speriamo quelli metti stanno. Gohan! Speriamo. Penso c'era anche Junior. Sì, ci vuole. Se mettono Gohan per forza anche Junior. Certo. Sì, poi Trunks del futuro ci sta. Eh, anche Trunks del futuro non è male. E poi dovrebbero mettere anche i Fici perché una volta che hanno messo Bulma. Eh, è vero. C'è anzi ha più senso. Assolutamente sì. Perché Bulma non combatte. Oh, qua c'è un bibitozzo. C'è un Falò se serve vita. Fra, vieni qua, vieni qua. Anche se secondo me metteranno Whis al prossimo giro. Eh, Whis magari, bellissimo. Che hanno messo Beerus quindi. Eh, potrebbero mettere. Potrebbero mettere qualche Fici. Comunque qua ci sono anche dei cosi di slurpo se servono. Sì, sì. Ma ce li facciamo appena di full lì. E' troppo bella la spada. La spada rossa è la più bella di tutte. E' veramente bella, sì. Poi fa V. Team Sith, lo vado per tutta la vita. E' quello le shot e i barini. Non ne ho preso manco uno qua. Allora, no, quel posto adesso è fuori safe. Andiamo qua. Ma forse c'è tipo una quest e devo rompere le cose con la spada, mi sa. Eh, forse c'era, sì. Perché mi ha dato tipo dei punti rompendo le cose. Bella Giovanna e Vincenzo, grazie dei like, ragazzi. Come state? Olè. Dove siamo arrivati qua, condotti? Non so come si chiama in italiano, però penso di sì. Confusi. Shifty Shots. Allora, Giacomo, grazie mille del like, fra... Allora, non c'è il mondo per accedere a cosa. Comunque ho visto già qualcuno che gli sono arrivati... Così, come si chiama? Allora, non c'è il mondo per accedere a casa parte 1. Ah, sì, ho visto, ho visto. A Sabaku è arrivato. Sì, sì, ho visto, ho visto che alcuni ce l'hanno. Anche i multiplayer ce l'hanno esclusivo. Eh, mannaggia. Eh, mannaggia. Io lo vorrei prendere. Anche se già l'ha giocato. Eh, io... Oh, sì, dovemo? Io lo compro... Cioè, lo voglio comprare, ma penso sul computer. Vabbè, certo. Io non lo so, cioè... Sarebbero intelligenti a metterlo nel plus extra, come hanno fatto con Stray. Eh, sarebbe giusto. Anche perché il remake, di nuovo. Cioè, hanno fatto la remaster dell'1. Ma no, però ti ho detto che è veramente molto diverso, cioè, l'hanno cambiato molto. Vabbè, hanno messo il motore grafico del 2. E anche l'intelligenza artificiale del 2. Sì, sì. Che nel primo erano molto stupidi. Vabbè, ma era becchio nel primo come gioco. Vabbè, era un gioco della PS3. Eh, eh. Però già hanno fatto... L'hanno fatto già le mostre, ma il remake, buh. Cioè, ci sono due altri giochi che... Sì, sì. Meriterebbero un remake. Sì, assolutamente. Io farei un remake del primo Metal Gear. Oppure Dante's Inferno. D'altro giorno, non lo vediamo, è tutto pixelatissimo, non si può giocare. Cioè, è proprio della Xbox One quel gioco, cioè. Vabbè. Però Dante's Inferno, il problema è che i diritti ce l'ha l'Electronic Arts. Eh. Quello è bellissimo. Il giorno l'ho portato, perché non volevo portare il live, ma non si può portare il live nel 2022. No, ma ti uccide gli occhi. Non si può, purtroppo. È un peccato, era un gran bel gioco. Sì. Bellissimo. Poi anche il DLC Martiri di Santa Lucia era troppo... Bello, era proprio bello. Eh, forse lì c'è gente. No, è la... Anzi, che già stanno facendo i cosi, i remake di Dead Space... Eh, vero, 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 ho visto. C'è una... Una cassa... Ma perché la Yate comincerà a monetizzare in altri modi, visto che non avrà più il brand di FIFA? Eh, FIFA è già una grave perdita, ha già. Eh beh. Eh già, era, diciamolo, il loro... Come si dice? Era il punto di... Sì, sì, certo. Diciamo che era il titolo più grosso che aveva la casa, penso. Ma sì, perché c'erano tanti streamer che lo portavano... Eh, questa mi sa che il 23 è l'ultimo, vero? Eh sì, FIFA 23 è l'ultimo fatto dell'IA, poi passa alla... Alla 2K. Eh già, chissà poi come sarà, poi vedremo. Ma secondo me sarà un gioco fatto bene. È che devo prendere la Play, per forza la Play 5 ora. Ma quando esce FIFA, il 28 settembre? Eh, sì, sembra a settembre. Eh, sì, me lo prendo allora e me la compro per il compleanno, la Play. Gente! Eh, sì, se la trovi. Eh, vabbè, usata magari, la trovi. Va qua, va. Certo, vedi se qualcuno te la toglie. Qua dietro c'è un altro? Ring blue c'è un gogo. Travis Scott, 48 qua. 48 a go, doppio 48? Senza scudo. No, mi sta ammazzando l'altro. Ah, è volato, è volato. Ah, è volato. No, l'ho visto, l'ho visto. Sono tipo tutti messi male, comunque. Ho tirato una camera a me, ah? No, mi ha tirato la bomba ballerina. Ah, sta ballando anche lui, GG. Vieni, avvicinati che ti distruggo con la spada. Bella. Sei scappato, c'è uno qua dietro. Ho fatto bei danni con la spada. Ma non posso pingare perché sono a terra da lì. Ottimo. Ottimo. Ma cosa? Non fa niente. No, non l'ho colpito. Non ci credo. A me a me a in arrivo, sono morti. Riperozzi. 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 Unque bellissima c'è il mondiale di Pokemon. Questi giorni. Di carto di videojogo. Tutte e due cose. Ah, bello. Sono andando alla roba che io stacco, ma vado a pranzare, ragazzi. Io pure, ragazzi. Ciao, ragazzi. Ciao, pranzi. Ciao, grifra. Ci sentiamo. Boom, pranzi. Ragazzuoli, buon pranzo. Stacco, vi saluto. Raga, grazie mille come sempre per il supporto. Noi ci ribecchiamo direttamente questa sera qui in live sul mio canale. Ciao, belli miei. Un bacione. Ciao, ragazzi. Ciao, ragazzi. Grazie.